Anche quest'anno la Regione Campania assicura i collegamenti marittimi con il Cilento da Napoli, Salerno, Capri e Costiera Amalfitana. L'importo che la Regione finanzierà per questo importante servizio via mare è di circa 700 mila euro e coprirà i mesi di luglio e agosto. Due i lotti a bando, quello dell'area sud parte con una base di gara di quasi 507 mila euro. Due saranno le linee, la Salerno-Costa del Cilento, da svolgere nelle giornate di sabato e domenica per 18 giorni complessivi e quello sulla rotta Sapri-Capri-Napoli, da effettuarsi per complessivi 44 giorni dal lunedì al venerdì. Il metro del mare fermerà presso gli scale portuali di Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro e Camerota.